Di più per volerci bene, attualità e cultura in un programma di Nazareno Tiberi Salutiamo gli ascoltatori di Dalle Nuova Maciata Benvenuti Perché la zatta di Alice è partita, no? Sì Ma chiediamo a Martina che è qui con noi È ripartita e riparte con i ragazzi che abbiamo qui del primo laboratorio di teatro spirituale Oggi ci narreranno la leggenda della creazione Quindi i ragazzi che sono qui in studio I ragazzi che sono qui in studio sono otto ragazzi che quindi ci narreranno questa leggenda Che abbiamo voluto presentare come l'atto supremo di Dio Abbiamo voluto tenerci scrivendola all'anima favolosa della Genesi E custodire, trasmettere una leggenda è davvero un gran bel compito L'uomo da sempre ha trasmesso ai suoi figli le proprie storie, i propri miti Ma che cosa significa creazione? Essere creazione non significa certo essere uguale a Dio Tutt'altro Significa ripristinare quel legame di creatura Di creatura di Dio, sentirsi creatura Noi abbiamo perso l'orgoglio e il senso dell'essere creatura Perché esserlo significa avere un legame speciale con il creatore Un rapporto unico Un rapporto appunto mitico, favoloso Se andiamo indietro nel tempo e se pensiamo che tutte le culture Hanno un mito della creazione, una storia della creazione Che è stata tramandata di padre in figlio, di generazione in generazione Ci rendiamo di conto di quanto sia importante per l'uomo Per tutti gli uomini, non solo per i bambini Ritornare all'infanzia delle cose Che cosa avrà pensato il primo uomo quando ha chiamato per la prima volta il cielo cielo? Sarà scorso un po' d'azzurro? Ascoltiamolo allora con la leggenda della creazione Diamo il via Primo atto I bambini sono seduti a terra Intorno a loro un grande prato verde Dove vai con quel libro enorme? Questo non è un libro, è la Bibbia Qui Dio crea il mondo E poi non è sentito la maestra? Bisogna fare un tema sulla creazione Immaginare la creazione? E che tema è? Noi non c'eravamo Come facciamo ad immaginarlo? E poi ho visto in tv che il mondo è venuto con una grossa esplosione Sì, e poi sono venuti i dinosauri Anche in cielo Anch'io non so come farlo Uffa, e adesso? Ma voi non sapete che bisogna andare su internet? C'è tutto su internet Basta cercare Scrivo la parola Co-la-zio-ne Ma che colazione? Cre-a-zio-ne Va, qui c'è solo una foto di un uomo nudo Niente E adesso? Dai andiamo via Sta scendendo il sole No, non andate Non è ancora sera Come si sta bene qui Vorrei rimanere così per sempre Lassù, guarda C'è un... Che uccello sarà? Un falco? Forse un gabbiano Ma... Ma che gabbiano? È una colomba Sembra così libera Ha freddo Va incontro al sole È scomparso dentro il sole? Già Il sole deve essere stata la prima cosa creata da Dio Come lo sai? È scritto nel tuo libro? Lo immagino Come si fa? Come quando sogni? Sì Come quando sogni Una cosa bellissima I bambini restano zitti Con gli occhi chiusi Una musica alla fine della scena Fa ritornare la sala nel buio La notte scorsa Farono nella luce Io tremai Alla vista di quel grande splendore Ad un tratto Le loro zampe soffici Le linci vennero avanti strisciando Fuori dal buio Feci caproni con le corna ricurve Diede agli orsi Un pelo morbido e vellutato Nel vedersi Ballarono dalla gioia Apparve una piccola scimmia E mi guardò Chi sono io? Cos'è questo posto? Chiese Tu sei una piccola scimmietta Nel mio paradiso Che ho fatto io Questo sei E non altro Le risposi Allora Vediamo un po' Ecco qua Il prossimo Quando si alzò il sole nel mio paradiso Creai il bambino Respirò Protese le braccia verso la luce Guardò nelle lontananze Come se aspettasse qualcosa Tutto questo è tuo Disse al bambino La terra, gli alberi E ogni creatura Ma chi giocherà con me? Gridò lui Allora Creai la bambina Essa apparve E si mise vicino al bambino Questo è il paradiso Le disse il bambino Noi vivremo qui Insieme Spinsero il passo Verso la boscaglia Scopriremo i segreti Del paradiso Del paradiso Disse la bambina Si dondolarono sui rami Degli alberi caduti E tentarono di volare E tentarono di volare Come gli uccelli Dove sono le vostre ali? Strillarono di volare Strillarono i gabbiani Soltellarono sulla terra Era ruvida La ricopersi di un verde muschio Come soffice Come soffice Esclamò la bambina Guardò il pot Guarda Guarda Io posso volare Nel vento Saltò nell'aria Ed io La sostenne Con le mie mani invisibili La bambina sorrise Guarda questa radonchietta verde Non ha paura di me Poi La leonessa Brontolò La ranocchia Saltò nel fondo dell'erba La bambina le corse dietro Torna ranocchietta Gridò Ad un tratto La bambina Si accorse che era sola Dove è andato il bambino? Domandò al pavone L'hai visto? Io sono stato appena creato Rispose il pavone Sono troppo occupato Ad ammirare me stesso Per vedere qualsiasi altra cosa La bambina Si sedette per terra Chiuse gli occhi E desiderò Che tornasse il bambino Riportai allora Il bambino vicino a lei Si misero ad esplorare Il mio paradiso Trovarono alberi Carichi di boccioli profumati E tanti frutti Arrivarono ad un albero Carico di lucide mele Non mangiate le mele Io sussurrai C'è dentro il veleno Se le mangiate L'incanto del paradiso Si romperà Un furbo serpente Si sporce da un ramo Mangiate 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 le mele Vi spigliò Hanno un così buon sapore Un così buon sapore La bambina si to' Ma solo un minuto Sono bellissime queste mele lucide Disse Io devo assaggiarne una Se è cattiva Potrò sempre sputarla E allungando la mano Colse la mela avvelenata Ogni creatura nel paradiso Trattenne il fiato Nooo Sussurrarono le scimmie Non cogliere quella mela Lasciala stare Lasciala stare Implorarono La bambina colse due mele Dall'albero Una per sé E una per il bambino Niente io potevo fare Per fermarli Quando ebbero mangiato Le mele Avvelenate Quelle che io temevo Avvenne Il sole tramontò Sul mio paradiso La bambina volse le spalle Non aveva più voglia Di giocare Il bambino era turbato La gioia Se n'era andata Dal mio paradiso Uccelli bianchi Si affollarono Nel cielo Urlando nel buio Dove sei? Dito al bambino Alla bambina Vieni da me Ho freddo E ho paura Disse il bambino La bambina lo confortò Io non ho paura Gli disse O almeno Mi pare di no Allora Io sognai Che facevo sorgere il sole Non ho paura Quando c'è il sole Disse il bambino Camminiamo Verso il sole Disse la bambina Così Così Non avremo più paura Il bambino Il bambino Prese la bambina Per mano E se ne andarono via Dal mio paradiso Non li potevo fermare Ma vorrei fare in modo Che il sole Risplendesse Su di loro Per sempre Ecco Un bel applauso Bravissimo Allora Martina Spiegaci un po' Come hai messo In scena Questa bella creazione Allora Come ho inizialmente detto Come ho inizialmente Insomma Enunciato E abbiamo Ci siamo attenuti Appunto a quella che è L'anima favolosa Della Genesi E in realtà La creazione Nella Bibbia Non è altro che Una grande fiaba Una fiaba Però A cui dobbiamo Cioè Dobbiamo Credere James Hillman Dice È ora che l'uomo Inizia a pensare Miticamente Che cosa significa Dare importanza Alla fiaba Non significa Dare importanza A ciò che non è vero Tutt'altro Anzi È proprio Significa il contrario Ma Risvegliare Significa risvegliare Quella parte Così profonda In noi E rimasta assopita Che raggiunge Appunto L'infanzia Delle cose Che raggiunge La nostra parte Bambina Il nostro bambino Interiore E riportarla Alla luce E questo Questo è appunto Il senso Del ripristinare Il legame Con il creatore È questo Il sentirsi Creatura E quindi Iniziare A sentire A pensare Miticamente Non perché Dobbiamo crearci Falsi eroi O falsi miti Attenzione È ben diverso Questo Ma La Da sempre La fiaba Ha aiutato L'umanità A A camminare Ad intravedere Una luce Nel buio Del Nel buio Del suo Ecco Chiedersi Del suo Porsi domande Su cos'è L'esistenza E sul dove Andiamo Da sempre La fiaba Ha aiutato L'umanità A riconoscere Il bambino Che è in lei Eh oggi È difficile Tu hai parlato Di spirito Bambino Più si cresce Più questo spirito Rischia di essere Così Un po' Annebbiato Assolutamente Rischiamo Sempre più Di perderlo E Quanti oggi Si fermano La sera A leggere Fiabe Quanti di noi Si fermano A leggerle Ai propri figli Ormai Quasi più Nessuno Lo fa Invece La fiaba Serve proprio A questa Appunto A ripristinare Questo legame Interrotto Questo Questo bambino Profondo Invece Che dovremmo Sempre coltivare Anche da adulti Perché In noi Ci sono Sia La I geni Sia le parti Genitoriali Quindi gli adulti Ma c'è anche La nostra parte Bambina Che bisogna Sempre curare Aver cura Di lei Avere cura È una grande cosa Oggi Certo Così come È importante Il rapporto Tra creatore E creatura Di cui tu hai parlato Assolutamente La creazione È a partire Dalla Sentirsi Creatura Non ha Nulla a che fare Con L'atto Di creare Quindi sentirsi Onnipotenti Anzi È tutto il contrario Ma riconoscere Di essere Poveri Di essere In realtà Che cosa? Polvere Di essere creature E appunto Di dover Ripristinare Questo legame Senti Ma tu hai messo In scena Con questi ragazzi Questa Bella fiaba Appunto Che ci riporta Alla creazione Al padre E a noi Creature Ma è stato Difficile? È stato È stata Un'avventura No Non è stato Difficile Perché farlo Insieme Agli ragazzi È una cosa Veramente È una cosa Meravigliosa Perché poi Sono loro Che mi hanno Ispirato E abbiamo Scritto Insieme La sceneggiatura E l'abbiamo Portata in scena Ora purtroppo Non abbiamo Più una sede Ma Ho proposto Appunto Come ti dicevo Di magari Venire qui In radio Mensilmente E raccontare Altre fiabe Ai ragazzi Che ci ascoltano No Ricominciare A raccontare Fiabe A raccontare Leggende Da parte Dei ragazzi Io credo Che sia Un'ottima cosa Un ottimo Esempio Per tutti Non solo Per i Bambini Ma per tutti I bambini Io penso Che quegli amici Di Radio Nuova Macerata Con gioia Apprezzeranno Questo appuntamento Mensile Ecco Che tu organizzerai Quindi su vari Argomenti Assolutamente Ci sarà Il teatro Quindi ci saranno Parti di teatro Ci saranno Fiabe Ci saranno Anche poesie Lette dai ragazzi Ricominciamo appunto Allora a sentire A sentirci creature E a A sentire Miticamente La creazione In fondo Intorno a noi Siamo pieni Di cose belle Da guardare E i bambini Ce lo insegnano Ogni giorno Cioè Il loro sentire È molto più vicino Alla creatura Di quanto Poi Invece Lo è Il sentire Dell'adulto Solo che i bambini Si stupiscono ancora A noi purtroppo Un po' meno Eh esatto Sì c'è questa mancanza Ecco adesso vediamo Che Martina Di meraviglia Sì Mancanza di Dobbiamo Ricominciare Allenarci È un esercizio Un allenamento Come allenare La memoria È un allenamento Alla Alla fiaba Al credere ancora Nel bene A credere ancora Che ci sono forze Nell'universo Che sono capaci Di fare il bene E di aiutarci In questo percorso Di aiutare L'uomo In questo percorso I bambini Lo sanno Ma noi adulti Spesso Ce lo dimentichiamo Come mai Noi adulti C'è questa Dimenticanza Eh Hai trovato Una ragione Io non lo so Penso che La mia ragione Appunto Cioè Sento Questa Mancanza Questo Essere spezzato Del Del In me Quindi Sento Profondamente La mia diversità Dal sentire Quando ero Bambina Ad oggi C'è una grandissima Differenza Piano piano Ci si allontana Sempre di più Dalla semplicità E semplificarsi Invece Significa Ritornare Ad essere veri A riconoscere La profondità E l'essenza Il vero valore Delle cose Oh Direi che I genitori Allora Dobbiamo un po' Aiutarli A non scordarsi Di raccontare fiame Assolutamente Io credo Che anche Noi adulti Abbiamo bisogno Di fiame Bisogno Di credere Nelle fiame Come nei sogni Eh sì Sì Assolutamente È una cosa Che non va mai Dimenticata Sembra quasi Di dire Una cosa Già sentita E risentita In realtà Non è così Noi magari Ci creiamo Eroi Di miti Strani Particolari Andiamo a guardare Lontano Non c'è assolutamente Da guardare Lontano Bisogna guardare In noi Bisogna guardare In noi E chiaramente Anche fuori Di noi Ecco io Intorno Tutti questi Ragazzi Che hanno fatto Questo Magnifico Lavoro Cioè Questo è un esempio Un compito Importantissimo Oggi Chi lo fa più Eh Anche perché Mi veniva in mente Che oggi Molto probabilmente Ai ragazzi Si fanno vedere Storie Non proprio Così pulite E belle No? Beh C'è sempre Sì Oggi Ormai I ragazzi Sono molto più Insomma Sanno molte cose Chiaramente Hanno molti stimoli La tecnologia In questo Ha dato No? Un impulso Non sempre Positivo Perché bisogna Vedere Come vengono Usati Questi stimoli E Tornare Invece A guardare A A dare Un orientamento Alla vita Verso dei valori Che sono Che sono Positivi Nel senso Che riconoscono La vita Nella Nella sua Totalità Cioè Significa Riconoscersi Parte Di un tutto È quello Che fa il bambino Il bambino Si sente Parte Di questo mondo Come è cominciata La tua esperienza Teatrale Con questi bambini È iniziata Quattro anni fa Nel piccolo Nel piccolo Teatro Di Madonna Del monte Qui a Macerata Scegliendo Proprio Questo Cioè Scegliendo Proprio Il laboratorio Di teatro Spirituale Io sono Specializzata In drammaturgia Chiaramente Ho scritto Anche Altre Partiture Altri Copioni Ma poi Ho voluto Concentrarmi Su questo Non so Forse è stata Dentro di me Un' Ispirazione Fiabesca Questo Non lo so So Che quello Che ne è venuto Fuori È Veramente Pura meraviglia Insomma Possiamo dire Che dentro di te Il fanciullino Non si è addormentato No Questo possiamo dirlo Te ne dite Loro ti conoscono Loro ti conoscono Bene Quindi lo possiamo dire Tranquillamente Mi conoscono bene Sì Ormai Sì Come si fa a lavorare Così con i ragazzi Però Eh Beh È anche merito Loro Voglio dire Non tutti Sono capaci Di seguire In questo percorso C'è chi mi ha seguito E chi non mi ha seguito È stata una loro scelta Una scelta Ben precisa Anche dovuta Alle famiglie Chiaramente Avere una famiglia Che Che ci spinge A fare questo A trovare questo filo A sentirsi Veramente Bambini E vivere la propria Fanciullezza Nella sua Complessità Ma anche nella sua Pienezza È molto bello Certo Senti Già ci puoi anticipare Cosa preparerai Per il mese prossimo? Per il mese prossimo Prepareremo I segreti Dell'alba Un altro nostro Spettacolo Molto Bello Veramente Ispirato E Molto Complesso Anche perché Ci hanno lavorato Tantissimo Un anno Di lavoro Un anno Di lavoro Sì Quindi io vi invito A sintonizzarvi Ancora Appunto A cadenza Mensile Perché Ascolterei Avrete modo Ancora Di ascoltare Come si può Orientare Veramente Un ragazzo Verso La creazione E anche La visione Di un futuro Qualificante Ecco Quindi voi Naturalmente La Zatta Radio Alice Tutte le volte Tutte le settimane C'è su Radio Nuova Marcellata Ma una volta al mese Avremo queste sceneggiature Belle da ascoltare Dei ragazzi Che Martina Appunto Preparerà Assolutamente Sì Secondo me Ne vale la pena E ne ho parlato Anche con i ragazzi Sono d'accordo con me È un compito A cui Mi sento di Ecco Di Non sottrarmi A cui mi sento di assolvere Certo Allora Io direi Che per oggi Qui su Radio Nuova Macerata Possiamo chiudere La Zatta Radio Alice Salutando i bambini E tutti Volete salutare ragazzi Forza Un bel ciao Presentiamoci Con il nome Vediamo un po' Emanuela Ciao Micozzi Bene Poi Edoardo Ecco Edoardo Micozzi Micozzi Vediamo al prossimo Eleonora Micozzi Tutti Micozzi qua sono Voi quanti bambini Poi Anna Vaccito Anna benissimo Giorgia Pirro Giorgia Zoe 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 Ecco Un nome molto originale Sì Vita Esatto Un inno alla vita Allora Bene Allora noi ci salutiamo così Per oggi L'appuntamento con i bambini È tra un mese Mentre con Martina Sole Tra una settimana Tra una settimana Vi saluto a tutti Grazie Preste